Arturo! Andiamo? Fa! Ehi! Quello che non sai su di lui è su My Dog & Me, la guida pratica per vivere bene col tuo cane. Sceglierlo, educarlo e curarlo correttamente, con tanti accessori per diventare amici inseparabili. In edicola il primo fascicolo e gioco educativo a soli 4,99 euro. Prendila al volo!